Ciao ragazzi, si è appena conclusa Cagliari-Lazio, grande prova della Lazio che vince 3-0, nonostante abbia finito la partita in inferiorità numerica per uno stupidissimo secondo giallo di Marusic, un fallo di mano veramente evitabile, soprattutto sul 3-0. Ma la Lazio ha giocato un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo con un Luiz Alberto particolarmente ispirato, la Lazio ha dominato il primo tempo, giocato molto bene, segnato prima con Ciro Immobile, rigore nettissimo per un tiro da fuori di Luiz Alberto, netto il fallo di mano del difensore Cagliari, e poi è arrivato il primo gol del 2022 di Luiz Alberto. L'azione di ripartenza della Lazio nata proprio da Luiz Alberto, palla a Felipe Anderson che con grande generosità davanti al portiere anziché tirare passa a Luiz Alberto che a porta vuota non può sbagliare, ma la Lazio nel primo tempo ha avuto un altro paio di grandi occasioni dominando la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo invece il Cagliari è uscito fuori prestando più alto, cercando di riaprire la partita, però è stato Cragno a fare un miracolo sul Ciro Immobile ad evitare il 3-0. La Lazio ha sofferto, ma si è difesa con ordine, buona la processazione di Acerbi, stratosferico secondo me il Radu, oggi veramente 95 minuti fantastici di Stefan Radu, ma in generale direi tutta la Lazio bene. Nel secondo tempo secondo me è sceso un po' Luiz Alberto e infatti la Lazio ha fatto un po' più fatica a girare la palla, il Cagliari è uscito un po' di più a tenere la palla, a spingere la Lazio a provare a riaprire la partita col gol, che però non è mai arrivato anche grazie a un paio di buoni interventi di Stragoscia. E poi è arrivato il terzo gol, una perla di Felipe Anderson, Felipe Anderson che stava giocando bene, ma ha già regalato un assist a Luiz Alberto, terzo gol e tanta qualità di Felipe Anderson, che mette a sedere un giocatore, ne dribbla altri due e poi piazza all'angolino per superare Cragno. Grande prova di Felipe Anderson, oggi Zaccagni è un po' in ombra ma è cresciuto Felipe Anderson e sul 3-0 Sarri ha mandato in campo Luca Romero, però poi si è ritrovato in 10 perché Marusi ci si è fatto spellere come un fesso e Ciro Mobile si è fatto male, per cui siamo stati addirittura a un certo punto in 9 con Luis Felipe esterno, terzino destro e leva centrale insieme ad Acervi. Comunque la Lazio porta a casa tre punti importanti perché questi tre punti tengono comunque in corsa la Lazio addirittura per la Champions League anche se resta molto difficile, però una buona prova ed è questa secondo me la notizia più importante, è vero che la Lazio stava giocando bene da un mese, però è anche vero che nell'ultimo mese non erano arrivate vittorie. Oggi è arrivata un'ottima prova e tre punti pesantissimo contro un Cagliari, non ce lo dimentichiamo che ha pareggiato contro Napoli fuori casa, ha battuto il Torino, insomma una delle squadre più calde del momento.